Il palaghiaccio di Feltre è un nuovo gestore. La cooperativa Elementa si occuperà della struttura sportiva per almeno sette anni con possibile prorga triennale. Alla gara indetta dal comune, proprietario dell'immobile, era stato ammesso solo il soggetto risultato poi vincitore. La cooperativa Elementa è la stessa che un paio di anni fa ha vinto il bando per la gestione delle aree di Pra del Moro e Pra del Vescovo con l'Infopoint sulla Grande Guerra, l'area camper, i centroservizi e gli spazi verdi a cui si aggiunge anche una parte importante dell'area di Bosco Dreole e Rive, in mezzo al quale troneggia il palaghiaccio che sarà gestito dopo la vittoria di questo secondo bando. La cooperativa è di proprietà di una cordata di soci, tra cui anche l'imprenditore Lionello Gorza. Nella gara per il Palazzetto del Ghiaccio il valore stimato della concessione era di 455 mila euro, calcolato sulla media degli introiti delle tariffe d'uso e di quelli derivanti dalla gestione del bar, oltre all'importo corrisposto dal comune per consentire al concessionario i raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione. Per questa ultima voce del Colle delle Capre è arrivata la disponibilità a sborsare al massimo 120 mila euro più IVA, base per il ribasso d'asta. La cooperativa ha limato lo 0,5 per cento, portando a casa la concessione e il contributo comunale di 119 mila 400 euro più IVA. La società cooperativa Felter Ghiaccio quindi esce di scena dopo 36 anni, segnati da investimenti come l'acquisto del parco pattini e degli arredi, oltre che l'allestimento del bar. A questi si sono accompagnati quelli del comune, tra cui il rifacimento di parte dei puntoni di sostegno del tetto, il cui indebolimento aveva causato una chiusura prolungata dell'impianto, l'installazione di un nuovo sistema di congelamento e la sostituzione delle balaustre. Felter Ghiaccio era intenzionata a partecipare alla gara ma è stata esclusa a causa di un debito con l'erario contratto nel 2012. A causarlo avevano rimarcato dalla società nelle scorse settimane il mancato versamento della quota annuale da parte del comune nel 2011 a causa di un contributo ministeriale mai arrivato.